L'obiettivo è stato raggiunto, l'impianto a biomasse a Castellabate. Non si farà più. Questo è il comunicato stampa del consigliere di minoranza Maurano. La giunta comunale di Castellabate, con la delibera numero 170 2020 del 15 dicembre, ha rinunciato al finanziamento della regione Campania, poiché l'intervento non è più funzionale nella destinazione e agli scopi previsti all'atto di presentazione dell'istanza di finanziamento del 2017. Di fatto ha finalmente corretto le decisioni che la precedente giunta difendeva ostinatamente, non curante della voce dei cittadini. Come gruppo consigliare, dice Maurano, ci siamo sempre battuti affinché questo impianto non venisse installato nel nostro territorio, a tutela della salute, dell'ambiente, della vivibilità e dell'economia locale. All'inizio abbiamo letto e approfondito il progetto che la giunta comunale aveva presentato alla regione. Quando ci siamo accorti che tale intervento sarebbe stato dannoso per il comune di Castellabate, con determinazione abbiamo sollevato la questione, sensibilizzato i cittadini su questo tema e ribadito in maniera forte e chiara il nostro no all'impianto a biomasse a Castellabate. Ma questo risultato è stato possibile anche grazie all'apporto fondamentale degli esperti del settore scientifico, di cui un nostro giovane concittadino a cui va un ringraziamento speciale per aver svolto nell'ombra un lavoro prezioso di ricerca e analisi, dei comitati civici che hanno organizzato manifestazioni di piazza e dei cittadini che hanno iniziato una raccolta firme. Insomma, un'azione sinergica e di squadra che ha permesso di difendere il nostro territorio da scelte oggettivamente sbagliate. Tutto ciò a dimostrazione che l'unione delle menti e dei cuori è invincibile.